La ringrazio Presidente, ringrazio il collega interrogante. Sì, qua siamo di fronte ad una sorta di paradosso della politica, per cui un Presidente di una Regione che è l'ente proprietario della rete infrastrutturale dei binari e l'ente che ha dato in aus, quindi a se stesso, la gestione della rete regionale del trasporto ferroviario, attacca un Ministro dicendo al Ministro sei il colpevole per far andare a 50 all'ora e non più velocemente questi treni. Ok, ovviamente noi vogliamo altri, non vogliamo ai livelli del Presidente della Regione che falsamente attacca il Ministro per responsabilità, diciamolo chiaramente, che sono esclusivamente della Regione Campania ed esclusivamente del Presidente Vincenzo De Luca, che nonostante avesse i soldi, nonostante avesse i finanziamenti non è stato in grado di impegnarli ed oggi purtroppo quelle centomila persone, quei campani che quotidianamente soprattutto per andare e tornare dal lavoro utilizzano i treni regionali di Vincenzo De Luca, hanno quotidiani di servizi. Leggo articoli che parlano di inferno nel trasporto ferroviario. È esclusiva sua responsabilità. Non avendo utilizzato, non avendo ammodernato e non avendo impegnato i soldi, c'è un'agenzia prevista per legge che è l'agenzia, come da lei riferito, per il controllo e la sicurezza ferroviaria che ha detto alla Regione, quindi al Presidente della Regione, siccome non hai impegnato i denari in investimenti, i livelli di sicurezza dei tuoi treni sono talmente bassi per cui devi rallentare. Quindi noi cosa facciamo? Invece che rispondere allo stesso tono di una persona che fa il comico e non ha le capacità di governare, facciamo l'esatto opposto. Diciamo al Presidente De Luca una cosa. Siamo disposti a dare una mano, siamo disposti ad intervenire e a rilevare, come abbiamo già fatto in altri casi, la rete ferroviaria, cioè l'infrastruttura, cioè i binari, in modo tale che potremo applicare quel sistema di controllo marciatreno che significa non solo più sicurezza per i passeggeri, ma maggiore velocità dei convogli, che significa maggiori treni, che significa maggiore frequenza. Questa è la proposta che facciamo a colui che ha clamorosamente fallito nella gestione del mezzo di trasporto più importante, tanto utilizzato anche in Campania. Ora vedremo se ci risponderà con un'altra battuta da comico o finalmente si metterà le vesti del Presidente di una regione meravigliosa, da cui abbiamo anche sbloccato l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano, grazie ovviamente a problemi mai risolti dai governi del suo stesso colore politico precedenti. Vedremo se si vestirà invece degli abiti del Presidente della Regione e vorrà finalmente affrontare, se ne è capace, e risolvere, se ne è capace, i problemi dei suoi concittadini.